Il premio Chimica Verde Innovazione quest'anno differisce dagli altri premi che abbiamo sempre dato. Sono molti anni che insieme a Cremona Fiere e a Lega Ambiente, l'associazione Chimica Verde Bionet promuove il premio Chimica Verde, ma quest'anno abbiamo fatto un premio Chimica Verde Innovazione selezionando in particolar modo aziende italiane virtuose nella produzione di bioprodotti biobased con un utilizzo particolare delle biomasse, abbiamo preferito l'utilizzo di residui, di molecole di origine vegetale e abbiamo premiato una start-up universitaria, quindi cerchiamo di promuovere tutto quello che rientra nella ricerca e nell'innovazione, quindi questa start-up innovativa dell'Università Bicocca di Milano che produce una vastissima gamma di prodotti, poi partire dall'università vuol dire anche dare un nuovo spirito ai ragazzi che studiano e che non devono poi abbandonare il nostro paese per andare altrove. Un'altra azienda premiata importante è un'azienda che produce vernici naturali di tutti i tipi e ha la caratteristica di avere un'etichetta molto completa, che questo è un altro problema che può mancare ad altre aziende, in quanto non esiste una certificazione particolare in questo momento nel nostro paese, se non ci si rifà agli organi certificatori internazionali, ma di certificazioni volontarie, quindi riportare tutto in etichetta è un esempio di correttezza. Premieremo con uno speciale premio dedicato a Mosca, che è stato il fondatore della Spring Color, un'azienda molto legata alla chimica verde, che purtroppo è morto ad ottobre improvvisamente, in realtà dopo una lunga malattia, e abbiamo deciso di dare a un'azienda di servizi, che dà servizi per la zona ittica, la produzione della fascia costiera, abbiamo pensato di intitolare, di proprio dargli il premio Mosca come esempio virtuoso, con loro per una marineria e cerchiamo di portarli anche in altre zone, abbiamo prodotto proprio come Chimica Verde, un'azienda della Chimica Verde, abbiamo prodotto una cassetta in un polistirene biodegradabile, l'abbiamo chiamato PLA, l'abbiamo chiamato polipide PLA, e potremmo sostituire quelle milioni di cassette di polistirolo, che spesso troviamo nei nostri mari, e in cui le particelle più piccole spesso creano dei danni notevoli alla fauna ittica. Quindi il premio garantisce la caratteristica di essere virtuosi, di fare bioprodotti e di essere innovative. Queste sono le tre grandi caratteristiche che abbiamo deciso di sottolineare. Quest'anno in più c'è un passaggio importante che, oltre ad avere la targa di Legambiente e Cremona Fiere, quest'anno abbiamo creato un accordo di collaborazione con l'Italian Angels, i Business Angels italiani, più importanti, per dare ai premiati, al primo premio in questo caso è un exequo, quindi delle giornate di coaching da parte dei soci o del management di Italian Business Angels, e la possibilità di accedere a una fase di screening per vedere la possibilità di arrivare a dei finanziamenti, se ovviamente il gruppo di lavoro e Business Angels lo riterrà opportuno, dei finanziamenti per l'azienda. Si tratta di finanziamenti da parte di un gruppo etico, e quindi ecco perché abbiamo scelto di collaborare con IAG.